a tutti eccoci qua di nuovo per vedere una cosa nuova perché insomma sto cercando di fare dei tutorial all'uncinetto poi inizierò anche quelli coi ferri ma sono un pochino più laboriosi e sto cercando di farvi vedere tutte le cose che in questo momento vanno per la maggiore questo qua è un cappellino che in questo momento è un must ed è un cappellino estivo ha proprio colore arcobaleno oggi lo voglio fare in altre tinte e ho portato un pochino di tinte per vedere delle combinazioni a me piace molto questa combinazione qua e questo qua è un bel secondo me connubio allora iniziamo subito uso un uncinetto del numero 5 e questa è una mezza maglia alta mi ero già preparata il mio ca il mio capo preso all'interno perché preferisco lavorare col capo preso all'interno del gomitolo e come al solito quasi quasi mi preparo anche il successivo così almeno tanto vi faccio vedere come si tira fuori il filo da dentro che si infilano diciamo le mani ecco dentro a beccuccio così si cerca un grumetto all'interno del gomitolo ecco eccolo 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 qua e tiriamo fuori il capo questo qua è l'altro capo no è questo ok perfetto allora questo qua è il mio capo quello che mi serve lo metto gialli così lo preparo per il cambio colore ecco qua allora facciamo il cerchio magico cerchio magico è fatto così metto la codina in mano così metto il filo dall'altra parte delle dita in in questo modo in filo l'uncinetto dentro l'anello prendo questo anello qua e mi faccio due catenelle subito tengo tutto l'anello in mano in questo modo e il filo a cavallo dell'indice proprio così ecco adesso parto con nove mezze maglie alte all'interno del cerchio perciò uno siccome la prima è costituita dalle prime due queste catenelle io di maglie alte ne farò soltanto 8 4 i miei cani russano mentre io faccio i tutorial ormai siete abituati a sentirli forse tutti i miei animali nei video allora vediamo un attimo e abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 quando la maglia ecco la mezza maglia alta non viene fuori e 9 9 una è la prima poi c'è la seconda terza quarta quinta sesta settima ottava e non a a questo punto tiro tiro e vedete che abbiamo il nostro cerchiettino già pronto l'impressione che debba tirare un pochino di più filo questo lo ancora qua mi ancora qua con una maglia bassissima io lavoro meglio con gli uncineti più piccoli è comunque adesso vediamo un po il risultato se mai ecco qua e alzo il filo per fare subito la il primo aumento perché questi 9 adesso li raddoppio subito ora e nel primo giro faccio due catenelle per alzare il filo nei giri successivi farò la mia maglia alta finta perché mi piace di più ecco qua allora siccome la maglia la mezza maglia alta va tutta chiusa ogni giro va chiuso io devo per forza fare la mezza maglia devo alzare per forza il filo perché devo fare la mezza maglia alta finta che la vedremo nel giro successivo il primo aumento l'ho fatto qua in base in base ho messo subito un'altra mezza maglia alta e in questo successivo nel punto successivo ne metto altre due uno e due un'altra qua uno e due tengo il filo un po più tirato perché almeno così è un pochino più teso perché io preferisco sempre lavorare con degli uncineti più piccoli ma questa è una ricetta voi potete benissimo lavorare con un uncinetto più piccolo basta che abbiate diciamo poi il il diametro di praticamente 89 centimetri e siete a posto non il diametro il raggio scusate il diametro deve essere di 16 centimetri circa dipende dalle un po dalle dalle testine io ho la testa molto grossa per esempio perciò bisogno proprio di un raggio di 9 qui mi si è carbugliato tutto il può succedere che ogni tanto facciano un po queste cose i figli è strano perché windsurf non lo fa ha una torsione molto morbida e non fa tanto non non s'arrotola tanto e perciò sto raddoppiando tutti i miei punti ecco praticamente ora ci sono anche le campane perché suona anche il campanile ecco qua ora ho chiuso ho finito il mio primo giro dove ho raddoppiato tutte le maglie e vado ad attaccarmi qua per chiudere il giro ecco a questo punto ho il mio primo cerchietto a questo punto devo aumentare uno sì e uno no nel senso che tanto faccio la mia prima prima ma mezza maglia alta finta perciò tolgo l'uncinetto prendo il filo porto il filo di qua perciò a destra del del puntino del punto poi vado in base tiro fuori un filo ecco qua adesso scusate che questo sia un po ecco adesso a questo punto ne chiudo solo due e tolgo vado di qua al contrario ritorco e chiudo gli altri due adesso posso andare a farmi subito il primo aumento il primo aumento io lo faccio proprio dove creo la prima maglia la prima mezza maglia alta finta perciò ripunto in base e mi faccio la mia maglia poi vado avanti uno normale due nello stesso poi uno normale due nello stesso allora vi faccio vedere una cosa perché io sono dell'idea che quando l'uncinetto non è il vostro si fa fatica a uscire dai punti cioè se il vostro uncinetto va veloce se voi vedete che non avete perché questo qua è un cotone per esempio che non è molto ritorto se voi vedete che uscite bene subito vuol dire che il vostro uncinetto se vedete che fate questa faticaccia che sto facendo io allora no allora io ne approfitto per provare a cambiare l'uncinetto e allora provo a lavorare con il mio uncinetto preferito per questo cotone che è il 4 e vediamo cosa succede se mi piace di più ricomincerò da capo ma mi sa che mi piace già di più allora possiamo tentare di andare avanti così anche senza iniziare di nuovo da capo però io mi pare proprio che mi venga meglio perché a me il 5 mi viene proprio male da lavorare ho la mano più morbida non c'è niente da fare allora siccome ne approfitto di questa cosa perché che mi è successa proprio qui durante il video non la cancellerò la lascio proprio per farvi vedere che succede a tutti e che è una cosa che quando quando vi danno un pattern quando leggete una un pattern o qualcosa voi dovete assolutamente vedere qual è il vostro uncinetto congeniale non è sempre detto che l'uncinetto che hanno usato gli altri vada bene a voi l'importante è ottenere la grandezza e la diciamo il risultato qui dovete ottenere un raggio di 9 centimetri perciò è quello che faremo è quello che cercheremo di ottenere ecco qua qua e c'era il primo aumento allora qui erano due l'ultimo qua qui dovrebbero essere due e c'è qualcosa che non va perché anche qua ci deve essere stato un errore mentre andavo forse parlando perché vanno a proprio combaciare i punti tutti e due i punti dove ho iniziato l'aumento perciò qua potete vedere che ce n'è due maglie alte che nascono dallo stesso buco e qua una qua due e qua una qua due qua una qua due qua una qua due qua una ed ecco l'errore qua ce n'è una sola qua dovrebbero essercene due questo succede mentre uno si distrae io mi sono distratta parlando con voi ed ecco lì che ho dimenticato di fare un aumento qua ecco questa è una cosa che vi potrebbe succedere molto spesso dovete solo andare a ritroso e cercare di vedere dove avete fatto l'aumento l'aumento è proprio sono due punti che escono dallo stesso buco qua ho il mio ultimo aumento due nello stesso buco ecco qua a questo punto ho l'ultimo singolo da fare qua e mi attacco alla mia mezza maglia alta finta ecco qua direte non è un po' bucato sì ok è un po' bucato perché io ho iniziato con un uncinetto del 5 forse così quel 4 viene un po' più chiuso però è estate perciò poi una volta sulla testa questo centro qua non è che si vedrà tantissimo e soprattutto ha un po' di reazione diciamo ecco allora adesso mi rifaccio la mia maglia alta finta ecco qua faccio così ripunto in base tiro fuori un filo ecco qua prendo il filo chiudo due e poi chiudo gli altri due ecco qua adesso devo fare un aumento e due punti normali perciò faccio il mio primo aumento che lo faccio in base perciò ripunto dentro alla base dove ho creato la mia mezza maglia alta finta poi vado avanti uno normale due normali cioè quelli singoli e poi vado qua a farmi l'aumento in quello successivo uno e due ma i burdo grussano veramente tantissimo io non so che dirvi eppure vogliono stare sempre dove faccio io le cose perciò non posso tenerli lontani ecco perciò due punti normali uno un aumento due punti normali un aumento anzi no ecco vedete ho sbagliato perché mi distraggono un pochino è loro ecco qua avevo fatto l'aumento perciò due punti normali cioè mi fanno ridere e allora io penso a voi che vi state guardando il tutorial vi state cercando di concentrare e sentire una tromba dietro che sono i miei cani che russano ma io guardate chi mi conosce lo sa adesso non è uscito ecco ok e due nello stesso intanto alzo un po' la voce così questo windsurf io lo trovo bellissimo perché ha una lucentezza nei colori che è meravigliosa e poi tra l'altro i colori tengono meravigliosamente i lavaggi e tutto sono anni anni che lo uso e e devo dire che proprio non ho mai avuto nessun problema è un cotone fantastico ecco questi giri logicamente bisogna farli tutti i turchesi oppure a vostro piacimento ma mi preferisco non cambiare colore mentre faccio la prima parte degli aumenti e ovviamente ogni ogni giro i punti singoli in mezzo cambiano perciò il prossimo giro sarà un aumento e tre singoli il giro dopo ancora sarà un aumento e quattro singoli ecco perché devo procedere in tondo uniformemente aumentando uniformemente per renderlo più tondo possibile nel senso più diciamo non mi deve venire fuori una patata ecco mi deve venire fuori un bel tondo preciso ecco due singoli gli ultimi due perfetti e mi attacco ecco vedete eh no ma mi va molto meglio il quattro a me perciò pensateci provate e vedete cosa vi viene meglio ecco qua maglia alta mezza maglia alta finta chiudo i primi due adesso giro e chiudo gli altri due ed eccoli e vado avanti così perciò primo aumento dentro qua poi uno due tre aumento qua poi uno tutte le volte che tiro il filo da un colpo alla telecamera vabbè come sono professional uno due tre e due nello stesso uno due tre due nello stesso e così via fino in fondo uno due tre due nello stesso il giro dopo sarà uno due tre quattro due nello stesso poi uno due tre quattro due nello stesso tutto così finché non avete ottenuto questo raggio qua o comunque il diametro del cerchio sarà di quindici sedici centimetri dipende un po' dalla testolina lo dovete provare perché insomma diventa una specie di papalina che arriva all'attaccatura dei capelli più o meno è quello che dovete ottenere ci rivediamo quando siamo alla fine di questo cerchio iniziale e cambiamo colore e iniziamo la calotta sotto diciamo la parte sotto ecco qua il nostro cerchio base iniziato prima e di diametro giusto cioè il diametro che ci serve a noi che è 16 17 15 16 17 centimetri insomma più o meno dipende dalla vostra testa la mia testa è molto larga io mi sono fatta un 17 però voi dovete misurare questo questo qui il diametro non si vede moltissimo la linea di chiusura quella con la finta maglia alta e vorrei che voi imparaste a vedere la linea degli aumenti quella linea dove ci sono tutti i punti doppi la potete vedere facilmente se sapete riconoscerla è proprio il raggio dovete imparare proprio a vedere quali sono i punti e dove ci sono gli aumenti questi sono i punti singoli questo invece questo invece è un punto doppio si vede perché ci sono quattro gambette che escono dallo stesso buco invece gli altri sono da soli c'è una un punto solo che esce da un buco mentre l'aumento ce ne due si vedono benissimo e formano questi raggi si vedono molto bene e soprattutto quando lavorate in tondo dovete pensare che la vostra circonferenza cioè la circonferenza che desiderate non è mai quella del cerchio di base il cerchio di base man mano che si smette di aumentare guadagna ancora un paio di centimetri più o meno di larghezza perciò attenzione a non fare troppo grosso troppo grossa la circonferenza che desiderate e quando smettete di aumentare proprio piegandosi si aumenta aumenta si allarga e questo vale per le borse per i cappelli e per tutto quello che è di base tonda e poi deve essere bella precisa mi raccomando qui cambio colore perciò faccio la mia mezza maglia alta finta con il colore nuovo perciò di nuovo prendo il filo lo porto sulla destra infilo il punto punto in base tengo tutti e due bene ancorati dietro anche questo quello nuovo mi raccomando lo prendo così e lo tengo bene infilo tengo bene dietro così vado in base tiro fuori il filo nuovo ecco questo tende sempre a cavallarsi ma voi lo spostate sulla destra perché deve stare sulla destra del punto perciò devo avere due punti colorati e in mezzo quello diciamo del colore vecchio ne lavorate due e poi togliete l'uncinetto girate rinfilate tirate bene quello di sotto ed ecco ricominciate col colore nuovo il giro di mezza maglia alta senza aumenti ci vediamo in fondo a questi giri che voi farete a vostro piacimento cambiando cambiando le righe a seconda anche del filato che avete e quello che volete ottenere in questo in questo cappellino le righe sono state fatte una diversa dall'altra e addirittura qua ce n'è una piccolina e poi c'è la tesa eccoci arrivati all'attesa ho fatto qualche centimetro in più perché come vi ho detto io ho un testone perciò gli 8 centimetri dalla fine degli aumenti all'attesa non mi bastavano e ne ho fatti un pochino di più questo dipende da voi dovete provarlo e vedere come vi veste se vi piace più calcato per così sugli occhi per non vedere nessuno è meglio che andiate un pochino più giù l'attesa è sono tre giri lavorando cinque punti normali e un punto doppio perciò l'aumento ogni cinque facendolo ogni cinque per tre giri ovviamente vi viene sfalsato perciò non vi verranno gli aumenti sulla stessa colonna per esempio qua ho sbagliato non vi verranno gli aumenti incolonnati perché è impossibile dovreste fare ogni giro aumentare di uno i singoli invece vi vengono sfalsati bene perché comunque l'attesa se no verrebbe a punte e l'attesa a punte è brutta o meglio in questo cappellino non ci va mentre invece magari se fate dei cappellini da bambine sono carinissime con le tese con le puntine perciò dovete calcolare di andare a fare gli aumenti ogni ogni cinque ogni sei ogni sette questo numero di punti non mi dava il multiplo esatto di sei bisogna che vi dia un multiplo esatto di sei perciò questo purtroppo lo dovete vedere qua quando voi avete finito questi aumenti praticamente dovete contare i punti e vedere che ci sia un multiplo di sei perché vada bene la prima diciamo la prima tornata di aumenti perché per averli belli cadenzati tutti uguali dovete guardare qui io a me mancava un punto perciò non sono stata attenta perciò guardate sempre un po' il multiplo anche se vi aggiustate ecco se sbagliate potete aggiustarvi queste sono cose che succedono e subito nei primi tempi bisogna che impariate a stare un po' dei canoni dell'uncinetto perché dovete imparare a comunque a contare e questo è fondamentale però dovete anche un pochino rilassarvi perché le prime volte può succedere che ci siano delle piccole cose che non vi tornano ma voi dovete lavorare 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 per imparare i primi tempi pensate che io mia sorella facevamo i tondi a occhio mia sorella adesso fa delle borse stupende ma le conta perciò prima non contavamo nulla adesso ci siamo messe un pochino più a contare perché in 30 anni abbiamo imparato qualcosa però dovete abituarvi perché è fondamentale niente non mi piace granché la giunta che ho tenuto con la maglia finta preferisco lavorare a maglia bassa a maglia bassa non chiudo il giro mi vengono molto meglio mi vengono molto meglio non mi viene la giunta perciò è molto bello e in cima però ho uno scalino minimo da gestire se io lavorassi senza chiudere il giro avrei uno scalino grosso anche ogni cambio di colore non posso gestirmi questo scalino in un berretto nella borsa sì perché magari nella borsa se arrivo in cima con lo scalino qua posso coprirlo con il manico o cucendo il manico o attaccandomi qua per fare un eventuale manico io non ho nel berretto ho fatto così non mi fa il modo migliore che potevo usare ecco adesso ci vediamo in fondo siamo arrivati in cima abbiamo fatto due giri con gli aumenti rosa due giri con gli aumenti turchesi un giro giallo con gli aumenti sempre uno ogni cinque e l'ultimo giro lo facciamo a maglia bassissima questo qui è facoltativo nel senso che a me piace fare la maglia bassissima cioè questa che praticamente mi rinforza l'ultima parte e me la rende un pochino più rigidina e mi forma questa catenellina qua e poi chiudere potete rifinire in mille modi logicamente con ventaglietti con però questi qua semplici sono più sobri così c'è già il colore che fa tanto ciò conviene non avere non lavorare non fare troppi ghirigori ecco lo finite così e credo che vi verrà molto carino il risultato addosso abbiamo ultimato il nostro cappellino e io consiglio sempre alla fine di tirarlo un po' per lungo perché questa maglia tende un po' tende sempre un pochino a allargarsi ecco questo è il nostro cappellino ora dobbiamo fare un lavoro molto antipatico che è quello di svoltare risvoltare e andare a fissare tutti i fili allora io prendo un ago piccolo sottile però con la cruna da lana nel senso che ci possa passare un filo dentro ma non troppo grosso vedete non è troppo non è un ago da materasso mi metto il mio filo sul pollice così piego e faccio entrare il mio filo ok questo è il centro che io ora vado a stringermi ulteriormente infilando il filo dentro così nel cerchietto di partenza in questo modo questo vale per tutta la maglia cioè il modo di affrancare i fili è questo che vi faccio vedere che è sempre lo stesso e taglio anche questo che è un altro di nuovo piego vedete con che facilità si infila l'ago in questo modo e anche questo lo vado a distribuire qui in mezzo alle lavorazioni così mi rimane fisso e chiudo e taglio il filo ecco qua vedete anche qua la stessa cosa insomma praticamente io devo avere un lavoro pulito sotto a questo punto niente vi auguro un buon lavoro e logicamente vi chiedo gentilmente di condividere il mio video e di iscrivervi al canale e di lasciare un pollice in su possibilmente perché capisco che magari il mio video non è perfetto però è tutta la mia intenzione è quella di condividere tutto ciò e soprattutto di farvi logicamente approdare sul il mio negozio cioè il nostro negozio di Genova fonte della lana che è ovviamente il posto dove preferirei che acquistaste i filati ma è un suggerimento che vi do comunque in ogni caso mi auguro che voi possiate almeno darci un'occhiata in descrizione troverete il link per accedere allo shop online e l'indirizzo del negozio se volete venire di persona dove io lavoro ogni giorno come insegnante e come cotitolare con mia mamma e mia sorella e noi amiamo tanto questo lavoro perciò lo facciamo con molto molto amore e dedizione vi aspetto tutti quanti e grazie di avermi ascoltato e di essere arrivati fino a qua